Sui spalti un meraviglioso gemellaggio, in campo una battaglia, come vista Europa, stadio Artemio Franchi, tra poco Fiorentina-Torino, buon pomeriggio da Dario Massara, con offri. Di Aic, trinta il tiro, apre per Quadrado, sale anche Tomovic, Quadrado vuole il dribbling effettuato, ingressa in aria, Quadrado pallonetto, e la parata di Cilè, non basta, la Fiorentina è avanti, 1-0 all'ottavo, Quadrado! Best trip, always, I know, you'll be at my show, watching, waiting, commiserating, say it is... Porca valera, alto cross, verso Aquilani! Alberto Aquilani! Fiorentina-2, Torino-0, al sedicesimo, la firma di Alberto Aquilani! Battaglia-10 con il destro! Adesso è l'Irish, Fiorentina-3, Torino-0! Santana-Tabello-Zaro, Santana-Santana, ancora il topo per Barreto! Il piatto di Barreto! Il Torino c'è ancora! 3-1 al quarantacinquesimo! Santana-Santana-Santana! Santana-Santana! Bucato di Vigliano, il 3-2, Torino! Cerci, calca il sinistro! Adesso Cerci, un gol pazzesco, al trentaduesimo, è 3-3! E l'Andawi, dentro per Mati Ferrerza e l'Andawi, Romulo! Romulo! Il 4-3, il cuore l'Antunasimo! Explode Franchi! Fini-cio il bench del Franchi! Un bench straordinario! Di di Dio Criki, il 4-3! 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 Il 5-3! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.